Il pane quotidiano Ecco il pane quotidiano, una delle 15.000 onlus che distribuisce circa 3.000 pasti al giorno, insieme ad altre 15.000 onlus in Italia. Lì di fronte, ogni mattina, troverete una lunga, lunghissima fila di persone che sono alla ricerca di un pasto caldo. Il pane quotidiano si occupa, insieme ad altre migliaia di associazioni, di 6 milioni di italiani che vivono in una condizione di povertà assoluta. Ma ci siamo mai chiesti davvero che cosa significa povertà assoluta? Vive in una condizione di povertà assoluta una persona che soffre di una carenza di risorse tale da mettere addirittura a repentaglio la propria vita. Parallelamente, pensate che, secondo uno studio del Barilla Center for Food and Nutrition, il valore totale dello spreco alimentare solo in Italia ha raggiunto la astronomica cifra di 37 miliardi di euro. Secondo la Coldiretti, 44 milioni di italiani potrebbero essere alimentati, nutriti, attraverso le derrate alimentari che quotidianamente sprechiamo. Signori, stiamo parlando di un'altra Italia alimentata attraverso i nostri sprechi. Perciò, spreco alimentare da una parte, bisogno urgente dall'altra. Qui abbiamo il modo per connetterle. Si chiama Breading App. Breading è un'applicazione che si pone come obiettivo quello di limitare lo spreco alimentare per ridestinare alle migliaia di associazioni che quotidianamente si occupano di povertà questi eccessi. Breading è un'applicazione il cui nome deriva da bread, pane, un nome inglese. Ed è un progetto nato qualche mese fa tra Bergamo e Milano con la convinzione che il digitale debba essere una svolta concreta e positiva nella nostra società. Vogliamo creare una app che sia un ponte tra negozianti e associazioni. vogliamo creare una rete che trasformi questo piano virtuale, questo piano di cellulari che utilizziamo tutti i giorni in aiuti concreti e quotidiani. ma come funziona davvero Breading? Ecco Luca. Luca è un panettiere che tutti i giorni crea pane, pane di qualità. vorrebbe aiutare Luca il territorio in cui vive perché è un territorio che da anni fa vivere bene lui. Luca tutti i giorni alle 17.30 fa una stima del pane avanzato. Ma quando Breading sarà operativa, Luca il pane non lo butterà più. Luca infatti sarà iscritto a Breading, prenderà il suo smartphone e nella piattaforma inserirà il quantitativo di cibo avanzato. Nel suo profilo inoltre, Luca avrà inserito l'indirizzo del suo panificio e proprio per questo dovrà semplicemente aspettare che qualcuno passi a ritirarlo. e voi mi chiederete Ornella, ma qualcuno chi? Matteo. Matteo è un giovane studente, un giovane studente che presta servizio presso un'associazione un paio di volte alla settimana. Un'associazione che ha la sede proprio vicina al paneficio di Luca. Luca in realtà non lo sa. Matteo avrà iscritto anche egli all'associazione Breading e proprio per questo motivo riceverà una notifica sul suo cellulare contenente tutti i dettagli degli avanzi del panificio di Luca. grazie alla geolocalizzazione Luca troverà Matteo alla sua porta e gli darà gli avanzi della giornata e Matteo poi tornerà all'associazione e presterà servizio alla mensa. in questo modo cosa sarà successo? che Luca avrà dato tutto il prodotto della giornata e quindi avrà evitato gli sprechi mentre invece Matteo e la sua onlus avranno in questo modo risparmiato i soldi per l'acquisto delle derrate alimentari che potranno così investire in altri servizi da dare alla comunità. secondo lo SROI che ha un concetto di valore che permette di monetizzare quelli che sono gli impatti degli progetti che hanno un impatto sociale e ambientale noi sappiamo che Breading per la sola città di Milano per ogni singolo euro che andremo ad investire che è all'interno della società porterà 18 euro per la sola città di Milano. Ora, ad oggi non abbiamo ancora l'applicazione stiamo arrivando a quello che è il cuore del progetto l'app e la nostra visione è quella di renderla disponibile su tutti i sistemi operativi parallelamente a una web app e a un sistema SMS. Nonostante l'app non sia ancora operativa però pensate che abbiamo già ricevuto decine di richieste da commercianti e associazioni dal piccolo paesino della Valle d'Aosta ma anche dalla grande capitale romana. Oggi siamo qua a chiedere a voi quelle che sono le vostre competenze e a chiedere a voi un aiuto perché quello che vogliamo è creare un'applicazione che sia subito realizzabile e che possa raggiungere tutti tutti quei 6 milioni di persone che vivono in una condizione di povertà assoluta per fare in modo che davvero non ci sia bisogno di corsi per capirla ma che tutti quanti possano capirla senza bisogno di interfacce strane e che possiamo direttamente leggerla accendere il cellulare e capirla, utilizzarla. Ora, quello che noi vogliamo fare è trasformare quelli che erano disegni di ipotesi Matteo e Luca in volti, in carne ed ossa e vogliamo fare in modo che questa applicazione trasformi numeri e speranze in cibo e pane trasportato dal calore umano. In fondo la tecnologia è solo un mezzo sono le persone che la utilizzano che fanno la differenza. Grazie. 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 Grazie.